Dopo quasi un mese dallo inizio dello Isola dei Famosi, arriva il colpo di scena. A causa della gaffe della scorsa settimana in cui Mara Venier ha rivelato agli altri naufraghi l'esistenza di Playa desnuda, Cecilia Rodriguez e Bricei, desnudi, vengono ufficialmente separati. Non divideranno la fame, la nostalgia e la nudità. I due concorrenti ammettono di aver voglia di mettersi alla prova anche con gli altri naufraghi nella convivenza, ma stasera traslocare sarà solo Cecilia e Bricei. Effettivamente, poverino. Chissà se il modello dovrà rimanere lì da solo.